Alla Patria e al Signore, con i cubi della terra e i sedi vengono con gioia. A Patria e al Signore, a una madre come tutti al Signore. Riconoscendemi il Signore, che il Signore è mio. Vieni già da qui siamo a soli, suo popolo e regge nel suo posto. A Patria e al Signore, con i cubi della terra e i sedi vengono con gioia. Andate a lui come giudanza, a clamate i cubi di cubi al Signore. A Patria e al Signore, con i cubi della terra e i sedi vengono con gioia. A Patria e al Signore, con i cubi della terra e i sedi vengono con gioia. A Patria e al Signore, con i cubi della terra e i sedi vengono con gioia. A Patria e al Signore, A Patria e al Signore, Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Caro Vescovo Giuseppe, la nostra Chiesa di Senigallia volentieri condivide con te il ringraziamento al Signore per i 25 anni del tuo Episcopato. Il Papa San Giovanni Paolo II ti ha affidato questa Chiesa che tu hai servito con generosità e intelligenza pastorale dal 1997 al 2015. Un servizio che è proseguito, anche se in modo diverso, e che conserva il tratto della generosa disponibilità ed è svolto con sapiente discrezione. Per questo ringraziamo nuovamente il Signore, perché la Chiesa di Senigallia ha beneficiato e continua a beneficiare del tuo Ministero Episcopale. Permettimi di aggiungere il mio personale ringraziamento al Signore e a te. Quando quel venerdì pomeriggio di ottobre del 2015 il nuncio apostolico mi comunicò che Papa Francesco mi aveva scelto come vescovo della diocesi di Senigallia, aggiunse «Guardi che è una bella diocesi!» In questi sei anni del mio ministero a Senigallia ho potuto verificare che quelle parole non erano di circostanza, ma dicevano il vero. La Chiesa di Senigallia è proprio una bella Chiesa, e questo anche grazie al tuo ministero. In questa Eucarestia vogliamo chiedere al Signore, pastore buono, che verso di te sia generoso con le sue benedizioni, perché la Chiesa di Senigallia possa beneficiare ancora a lungo della tua presenza e del tuo servizio. Ancora grazie. Applausi Grazie Grazie caro Vescovo Franco, grazie per le tue parole, la tua benevolenza, l'amicizia fraterna, grazie anche perché venendo qui in diocesi come mio successore ti sei sombarcato ai limiti, alle lacune, ai problemi risolti che io ti ho lasciato. Comunque adesso siamo qui. Grazie anche a voi che siete benvenuti per rendere grazie al Signore per tutti i suoi doni, i suoi benefici e io in particolare ringrazio il Signore per questo dono grande e immeritato dell'Episcopato. E questo è il momento e anche il luogo migliore, più adatto per rendere grazie perché l'Eucaristia in se stessa è un rendimento di grazie da parte di Gesù e Gesù che ringrazia il Padre per il suo amore. E allora noi ci uniamo al rendimento di grazie di Gesù, uniamo il nostro grazie al Suo perché il Signore continui a benedirci, ad accompagnarci e intanto vogliamo chiedere sinceramente perdono di tutti i nostri peccati, le nostre mancanze per la nostra povertà e invochiamo il perdono e la misericordia del Signore. Signore, che sei l'eterno sacerdote della Nuova Alleanza. ormai 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 o ormai ormai Cristo, che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio. Cristo, Cristo, che ci fai con cittadini dei santi nel Regno dei Cieli. Cristo, che ci fai con cittadini dei santi nel Regno dei Cieli. Cristo, che ci fai con cittadini dei santi nel Regno dei Cieli. Cristo, che ci fai con cittadini dei santi nel Regno dei Cieli. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla testa del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, gloria. Preghiamo. Preghiamo. Preghiamo con intenso amore questi giorni di letizia, in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive regna con te nell'onorità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. A Settentrione tre porte, a Mezzogiorno tre porte e a Occidente tre porte. Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello. In essa non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina. La sua lampada è l'agnello. Parola di Dio. Parola di Dio. E il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Parola di Dio. Parola di Dio. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Parola di Dio. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Parola del Signore Alleluia 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 Carissimi E la parola di Dio è luce per i nostri passi, è luce che illumina il nostro cammino, è luce che ci aiuta a fare discernimento per quanto riguarda la vocazione di ciascuno di noi e anche la missione che il Signore ci affida. Ed è proprio in questa luce della parola del Signore che vorrei leggere, per andare un po' più in profondità, il senso di questo anniversario che ho la gioia di celebrare qui insieme con voi. Partiamo dal Vangelo. Il brano del Vangelo di Giovanni, che è stato appena proclamato, è tratto dal cosiddetto discorso di addio di Gesù, quel discorso che Gesù ha rivolto ai Suoi amici più cari, gli Apostoli, nel contesto dell'ultima cena. E in questo discorso di addio, appunto, Gesù annuncia la sua imminente passione morte e dice che tornerà al Padre, che lascerà i discepoli e tornerà al Padre. E allora possiamo immaginare il turbamento dei discepoli nell'ascoltare queste parole. Cosa? Gesù va incontro alla morte e se Lui muore tutto è finito. E noi? Cosa sarà di noi che l'abbiamo seguito fino adesso? Cosa verrà? Quindi possiamo capire il loro turbamento, il loro timore. Ma Gesù vi assicura? Dice, non abbiate paura, non abbiate timore, perché io manderò a voi lo Spirito Santo, il Paraclito. Una parola difficile questa, no? Paraclito. Cosa vuol dire? Paraclito è colui che è vicino, che sta accanto, che difende, il difensore, un po' come un avvocato, è il consolatore. Io manderò a voi il Paraclito, lo Spirito Santo. Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Lui vi insegnerà ogni cosa. Sarà un po' come il Maestro. Sant'Agostino chiama lo Spirito Santo il Maestro interiore. Cioè colui che parla nel profondo della nostra coscienza, colui che ci fa capire meglio che cosa Gesù ha detto, che cosa Gesù ha fatto. Ci fa capire meglio queste parole del suo ultimo discorso, quando dice, se uno mi ama, osserva la mia parola, e se osserva la mia parola, io verrò da Lui, io e il Padre mio, e faremo dimora presso di Lui. Che parole queste, stupende. Lo Spirito Santo, il Maestro, che aiuta a capire l'insegnamento di Gesù. Ma anche a ricordarlo, e non nel senso di un ricordo vago nella mente, ma a ricordarlo nel senso che il Signore stesso ci dà la forza di mettere in pratica, di attualizzare il suo insegnamento. Lo Spirito Santo, il paraplito, è lo Spirito d'amore, è lo Spirito che dà vita, e lo Spirito che ci viene comunicato, perché noi potessimo sentirci amati da Dio, amati da Dio, benvoluti da Lui. E allo stesso tempo avessimo la capacità, la forza di amare il prossimo, di amare i fratelli. La prima lettura, che è tratta dal libro degli Apostoli, ci riporta un po' il racconto, fa un po' il racconto della vita, della storia dei primi cristiani, della comunità primitiva, ci aiuta a capire un altro aspetto dello Spirito Santo. Nella comunità primitiva c'erano delle tensioni, delle controversie, delle divisioni. Si discuteva come comportarsi per quanto riguarda coloro che si convertivano dai popoli pagani. Anche loro dovevano sottostare alla legge ebraica, alla legge di Mosè, oppure no. Era una grossa questione allora. Quindi discutevano, come chiamano cosa fare. Ed ecco che decidono di riunirsi in assemblea. E' il primo concilio della storia. E' il primo sinodo della storia. Ci riuniscono in assemblea per discutere, a volte anche animatamente, ma poi anche per ascoltarsi l'uno l'altro. E poi per invocare la luce dello Spirito Santo su quello che devono fare, quello che devono decidere. Ed ecco che lo Spirito Santo interviene. Tanto che alla fine prendono una decisione condivisa, unanime, e sono in grado di dire, lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso quello che hanno deciso. Questo è un elemento che in più si aggiunge per la comprensione dello Spirito Santo, che lo Spirito Santo è l'anima della Chiesa. E' colui che crea la comunione, l'unità all'interno della Chiesa. Lo Spirito Santo è come l'anima in un corpo. Se non ci fosse Lui, non ci sarebbe la Chiesa, non ci sarebbe la comunione, l'unità degli uomini con Dio e tra di loro, e non ci sarebbe la Chiesa. Lo Spirito Santo. A questo punto, permettetemi, se dico qualcosa riguardo a questo anniversario, il Signore mi perdoni se parlo un po' di me, no? Se non è meglio non parlare di se stessi, della liturgia. Cosa è avvenuto nel lontano, diciamo così, 1997, quando nella cattedrale di Macerata sono stato ordinato vescovo. Cosa è avvenuto? Non è stata una cerimonia, ma è stato un evento di grazia, un mistero, che non si può spiegare semplicemente in termini umani. Un mistero. Perché c'è stata effettivamente, anche su di me, una effusione dello Spirito Santo. Il protagonista di quel momento, di quel rito, non ero io. Non era il vescovo consacrante, e gli altri vescovi consacranti, che erano presenti, un bel numero di vescovi, no? Lo Spirito, il protagonista dell'ordinazione, era lo Spirito Santo. E con questa ordinazione, ecco, io ho ricevuto un dono, un dono immenso. Un dono assolutamente gratuito. Perché il Signore mi ha manifestato il suo amore, la sua amicizia. e attraverso il sacramento dell'ordinazione mi ha voluto stringere a sé in maniera più stretta, più specifica, condividere il suo amore e per partecipare alla sua missione. Un grande amore del Signore, così con i miei riguardi. Una chiamata a entrare nella sua orbita, più strettamente, l'orbita dell'amore. Un invito, una chiamata a entrare così, più profondamente, nella vita del Signore e anche e anche nella sua nella sua missione. E con quel rito sono stato associato al Collegio degli Apostoli come successore degli Apostoli. gli Apostoli erano stati scelti per essere testimoni, testimoni del Signore Risorto. E se anch'io, come un altro vescovo, è stato associato al Collegio degli Apostoli, anch'io, insieme con gli altri, con fratelli, siamo diventati testimoni, testimoni, quel compito che sono lasciati a finire, gli altri, testimoni della sua risurrezione. La risurrezione di Gesù è il centro, il cuore di tutto il Vangelo. C'è il fondamento della nostra fede. Testimoni del Signore Risorto. Nel stesso tempo, pastore della Chiesa e più specificamente pastore di questa Chiesa particolare che è in Senigallia, dove si riverbera, dove si rende presente la Chiesa universale, pastore di questa Chiesa, con il carico specifico di promuovere la comunione, l'unione, l'unione dei fedeli con Dio e l'unione tra di noi. Certo, se ripenso a questo fatto, lo faccio ancora con grande stupore, con grande meraviglia, perché mi chiedo ma Signore, perché proprio io, perché a me è voluto dare questo dono e affidare questa missione, ma non c'era qualche altro migliore di me, non c'era più qualche altro più adatto, più idoneo, più capace, insomma, proprio io. Tanto più che io allora, mi confido, che avevo un altro progetto in mente, d'accordo con il mio Vescovo, avrei continuato il mio servizio che svolgevo in alcuni seminari del Terzo Mondo, più frequentemente nelle Filippine, avrei potuto continuarlo proprio a tempo pieno, non andandoci ogni anno per un po' di tempo, ma per starci insomma, un po' di tempo più. Questo era il mio desiderio, il mio piano, ma veramente i piani di Dio, i disegni di Dio sono diversi dai nostri. E ancora mi chiedo allora perché, per quale motivo? Ora mi so, viene come è avvenuta la scelta degli apostoli. Quando Gesù doveva scegliere chiamare gli apostoli, è andato a cercare chi? mica andato a cercare le persone più capaci, più idonee, più dotate, ha scelto persone normali, semplici, la maggioranza dei chiamati erano dei semplici pescatori. Beh, allora questo pensiero insomma mi rassicura. Certo che nell'Episcopato e del resto come in ogni altra vocazione o un ministero ci sono delle gioie e ci sono anche delle fatiche, è normale. Sono tante le gioie che io ho sperimentato in questo periodo, difficile, impossibile anche elencarle, no? Però tra le tante gioie c'è una in particolare che vorrei citare e cioè l'ordinazione che ho potuto fare di alcuni sacerdoti della nostra Diocesi. e insieme a con loro anche l'ordinazione di alcuni diaconi permanenti. E ho potuto assistere anche la consacrazione di alcune giovani donne alla vita consacrata. E poi la perla, diciamo così, la consacrazione episcopale del nostro carissimo e dimenticato di me amico fratello Don Gerardo Rocconi. è stata un'eva davanti delle gioie più grandi. E certo, ci sono anche le difficoltà. E il pastore deve guidare, no? Stare in mezzo, come dice Papa Francesco, davanti e dietro il gregge. Questo è il punto di riferimento. Deve indicare l'indirizzo del cammino. Deve incoraggiare un po' coloro che hanno un passo più lento. Ci sono i sacerdoti che il vescovo deve considerare come i suoi più stretti collaboratori perché senza i sacerdoti il vescovo non può fare niente. Però i sacerdoti sono pochi. E allora la difficoltà di suddividere gli incarichi, gli incarichi non sono incarichi onorari ma sono dei servizi. Penso che anche il vescovo Franco lo può confermare forse questa è una delle fatiche più grosse del vescovo quando c'è da fare qualche trasferimento proprio per rispondere alle esigenze della comunità cristiana delle parrocchie ma anche tenendo conto della sensibilità della preparazione dei doni di ogni sacerdote. difficoltà anche così di vivere con la sinodalità. Il concilio ancora non parlava di sinodalità come noi oggi lo facciamo proprio di questo insomma la difficoltà di camminare insieme. Ecco a questo punto penso non sia il caso di fare bilanci no? Non aspetto a me non cito non voglio proprio fare bilanci ma piuttosto se me lo permettete vorrei dare uno sguardo sintetico molto sintetico a questo questo tempo a questo mio servizio insomma che nella chiesa cercando di rintracciare quel filo conduttore una idea a cui ho cercato di riferirmi nelle scelte nelle decisioni che sono state prese e penso di poter dire che questa idea a forza questo filo conduttore l'ho trovato nell'esperienza che io ho potuto fare nel concilio Vaticano II per me è stata una grande grazia il concilio perché proprio in quegli anni in cui il concilio si celebrava io ero a Roma in un seminario collegio capranica e il concilio si è svolto l'assemblea conciliare dal 62 al 65 io sono diventato prete nel 65 quindi ho vissuto gli ultimissimi anni di preparazione dell'ascensio d'ozio durante il concilio e vicino 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 fisicamente insomma all'aula conciliare dove si svolgevano le riflessioni le discussioni e poi svolgevano le decisioni e quindi io e i miei amici eravamo appassionati con il seguire le vicende del concilio certamente non entravamo nell'aula conciliare però insomma ci tenavamo ad essere informati ad ascoltare gli esperti i teologi e dunque ho avuto questa grazia di condivere gli anni belli entusiasmanti dal concilio e dal concilio soprattutto dal documento sulla chiesa io ho tratto questa concezione di chiesa che il concilio ha sottolineato cioè la chiesa come comunione come segno e strumento dell'unità degli uomini con Dio e dell'unità di tutto il genere umano credo che questa sia stata almeno nelle intenzioni la forza l'idea forza insomma il filo conduttore a cui ho cercato di seguire così negli anni negli anni del mio del mio servizio e in questo in questo tempo appunto del mio pescopato ho cercato anche di dare alcune priorità alcune dimensioni della pastorale cercato soprattutto la pastorale giovanile la pastorale giovanile vacazionale la pastorale familiare e anche la pastorale sociale la pastorale caritativa senza escludere evidentemente anche le altre dimensioni i risultati povero me è meglio non calcolarli insomma certo una sensazione che si poteva fare molto di più si poteva fare meglio che sono stato delle lacune però mi affido alla misericordia del Signore e alla comprensione dei fratelli ma questo soprattutto è il momento della gratitudine questo è il momento per dire grazie in verità io avevo pensato di stilare un elenco con tutte le persone che avrei dovuto ringraziare poi mi sono accorto che questo elenco si allungava sempre più eccetera non si può non si può chiudere un elenco di questo tipo c'è sempre il rischio poi di saltare qualcuno allora ho pensato invece di fare i nomi ringraziare questo quest'altro faccio così dico un bel grazie con tutto il cuore un bel grazie a tutti e così non faccio torto a nessuno e anche evito di farci esercitare la pazienza andremo per le lunghe un grazie di cuore a tutti ma grazie grazie al Signore in primo luogo poi tutti ecco tutti compresi nessuno escluso e dopo sei anni eccomi qua come Vescovo Emerito ho ceduto ho passato il testimone insomma no il nostro Vescovo Vescovo Franco credo che lo Spirito Santo non abbia sbagliato scegliere lui come pastore della nostra chiesa è stata una bella scelta siamo contenti credo e da quel momento sono diventato come si dice Vescovo Emerito devo dirvi che a me questa parola Emerito non piace perché? perché Emerito e questa parola evoca qualche Emerito ma quale Emerito? Vescovo Emerito però non si riesce attualmente a trovare un'altra parola più appropriata e va bene lasciamo di essere chiamati così Vescovi Vescovi Emeriti e cosa vuol dire che non si è più Vescovi? no il Vescovo è Vescovo sempre certamente qui non bisogna equivocare è il Vescovo per questa diocesi ora è il Vescovo Franco punto su questo non ci sono non ci sono dubbi è lui che ha la piena responsabilità della guida della diocesi e allora il Vescovo Emerito cosa fa? come passa il suo tempo? alcuni me lo chiedono almeno io personalmente cerco di continuare a servire la Chiesa in una maniera diversa in una maniera diversa non più come guida della diocesi ma in altre maniere anche perché sento un forte legame di appartenenza a questa Chiesa anche con il passare degli anni sento un senso di appartenenza e quindi un legame un legame affettivo che non si può sciogliere e allora concretamente come svolgo questo servizio che vuole essere un servizio di amore alla Chiesa soprattutto con la preghiera adesso ho più tempo no? più tempo rispetto a una volta quindi posso pregare di più e prego un po' così per la Chiesa in generale ma in particolare per questa Chiesa da cui io ho molto ricevuto verso la quale sono molto riconoscente posso pregare di più e poi ancora oltre alla preghiera cerco anche così di fare un po' di aggiornamento perché la formazione permanente non esiste solo per i preti o fino a una certa età ma vale anche per i vescovi sempre si chiama permanente permanente significa che dura per sempre anche per me che sono arrivato alla bellezza di quanti anni 83 se non sbaglio ecco quindi la formazione permanente aggiornamento c'è bisogno di studiare di leggere qualcosa e poi anche così rendendomi disponibile a quei servizi che il vescovo può chiedere per esempio il conferimento della cresima o servizi liturgici la messa sono molto contento devo dire di poter dire la messa non da solo ma in una comunità magari facendo il giro delle parrocchie quelle che sono vicino alla mia residenza in seminario sono molto contento di questo e adesso mi trovo appunto a vivere questa ultima tappa del mio viaggio questa rampa l'ultima rampa verso la cima la cima è il regno di Dio la cima è il paradiso a cui io spero di arrivare malgrado passando attraverso il purgatorio perché dopo ascoltando che ho un po' di purgatorio possiamo farlo no? è la cima però è il paradiso è il regno di Dio è la possibilità di contemplare il volto di Dio e allora anche in questa ultima tappa chiede al Signore il dono della serenità il dono della fiducia e confido anche nella vostra preghiera veramente ecco restiamo uniti nella preghiera è un aiuto reciproco restiamo uniti nella preghiera e direi per finire sogniamo sogniamo una chiesa una chiesa bella sogniamo una chiesa come desidera anche il Papa una chiesa sinodale una chiesa che si preoccupa degli altri che si preoccupa soprattutto dei più bisognosi dei poveri degli amarginati dei potevoli e il Signore ci benedica a tutti così sia grazie a tutti Grazie. Padre Onipotente, Creatore del cielo e della terra, è in Gesù Cristo, Figlio nostro Signore, il quale ha con il tipo di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, battì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese gli inferi, il terzo giorno suscitò da morte, salì al cielo, siede estra di Dio, Padre Onipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo, inviato dal Padre nel nome di Gesù, assiste e guida infallibilmente la Chiesa. Apriamoci alla sua azione che effonde i suoi doni su chi confida in Lui. Ravviva in noi il dono del Tuo Spirito, Signore. Ravviva in noi il dono del Tuo Spirito, Signore. Per la nostra diocesi di Sedigaglia, incammino sinodale con tutta la Chiesa, affinché, accogliendo l'insegnamento dello Spirito Santo, possa testimoniare e donare la pace che Cristo risorto ci ha lasciato. Preghiamo. Ravviva in noi il dono del Tuo Spirito, Signore. Per il nostro fratello e padre, che oggi nell'Eucaristia rende con noi grazie per il venticinquesimo della sua ordinazione episcopale. Perché il Signore gli dia forza e salute per una rinnovata esperienza del dono ricevuto. Preghiamo. Ravviva in noi il dono del Tuo Spirito, Signore. Per tutti coloro che sono stati illuminati, confortati, ordinati al Ministero Sacro, mediante il servizio del Vescovo Giuseppe. Perché facciano fruttificare sempre più la grazia ricevuta, mediante la parola e i sacramenti della fede. Preghiamo. Ravviva in noi il dono del Tuo Spirito, Signore. Per tutti i collaboratori, i familiari, gli amici del Vescovo Giuseppe. Perché il Signore li confermi nel suo amore e li ricompensi di ogni gesto, parola e opera compiuta per la causa del suo regno. Preghiamo. Ravviva in noi il tuo Spirito, Signore. Per il popolo cristiano, perché i germi di vocazione che Dio semina a piene mani nel campo della Chiesa, fruttifichino in generose scelte di vita al servizio della comunità. Preghiamo. Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore. Per tutti i defunti, che sono particolarmente presenti nel ricordo e nella preghiera di questa giornata giubilare, perché possano godere della gioia perfetta nel convito eterno. Preghiamo. Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore. O Padre Santo, origine e fonte di ogni bene, tu hai arricchito la tua Chiesa di una molteplicità di carismi e ministeri per l'edificazione del corpo di Cristo. Nel disegno della tua provvidenza, tu mi hai chiamato a servire il tuo popolo come annunciatore del Vangelo e dispensatore dei santi misteri. Fatti tutta la mia vita un'offerta pura per il calice prezioso che hai posto nelle mie mani, per renderti grazie con l'Assemblea dei fedeli e magnificare con Maria, Vergine e Madre, le meraviglie del tuo amore. Per Cristo, nostro Signore. Amore. Portiamo all'altare le nostre offerte, perché la nostra vita sia tutta unita alla vita che non muore. Cantiamo. Amore. Amore. Grazie a tutti. 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 del tuo figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo humilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riolisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi là perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, con me indegno tuo servo, con il Vescovo Giuseppe che presiede questa Eucarestia, con i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Di Zelinda, Mariano e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. ammettili all'unità di Dio Padre Onnipotente. Ammettili all'unità di Dio Padre Onnipotente. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il Regno, tu è la potenza della tua misericordia. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amo. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Scambiatevi il dono della pace. Il Signore sia sempre con voi. Grazie. Se uno mi ama, osserva la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo lui, e prenderemo dimora presso di lui. Alleluia. Tu, Signore, ora vieni come cibo per me, io ti amo, Signore. Ora tu abita il mio cuore e tutta la mia vita, che io possa amare te e i fratelli. Grazie. 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 Nostro Signore. Amén. Eccellenza, mi permetta di rivolgergli gli auguri della Diocesi per questo venticinquesimo e soprattutto di leggerle la lettera di Papa Francesco. Al Venerabile Fratello Giuseppe Orlandoni, Vescovo Emerito di Senigallia, ci congratuliamo volentieri con lui per la felice celebrazione del Giubileo d'Argento di Episcopato e lo accompagniamo con la nostra preghiera. Lui che dapprima si occupò a lungo dell'educazione dei giovani con il lavoro di insegnamento, in seguito come pastore pio, prudente, fedele al Magistero della Chiesa, ha svolto nella Diocesi di Senigallia un operoso e zelante servizio pastorale nell'attività di predicazione del Vangelo e ha diligentemente portato avanti le iniziative pastorali per il bene dei fedeli e del clero della sua Diocesi. Mentre esortiamo preghiere per l'esercizio del nostro Ministero, gli auguriamo ogni bene e di cuore gli impartiamo la benedizione apostolica, segno della celeste grazia consolatrice e della nostra carità fraterna. Dato a Roma dall'Aterano il 4 aprile 2022. Firmato Francesco. Concellenza, prima di ricevere la benedizione del Signore da lei ci permettiamo di farle un omaggio e anche a tutte le persone che sono qui, al nostro clero, ci siamo presi la libertà di stampare le sue omelie. Abbiamo fatto un volume e sono contento che è una sorpresa, siamo riusciti a tenerla segreta fino adesso. Quindi, in veritate e caritate, raccolta di omelie, interventi e messaggi del Vescovo di Senigallia, Giuseppe Orlandoni, 1997-2015. Preciso che non è l'opera omnia. Abbiamo fatto una scelta, quindi di alcune ordinazioni, tra quelle che lei ha citato ci sono tutte. e eravamo sicuri perché l'abbiamo presa dal sito, quindi lei le aveva riviste e allora eravamo sicuri che era una cosa buona. Spero che la gradisca. Il Signore vi perdone. Per tutti i sacerdoti e i diaconi l'ho trovato in sacrestia e tutte le persone che sono alla messa ce l'hanno in omaggio uscendo dalla chiesa e poi, per chi lo desidera, anche per chi ci segue via streaming, si trova anche in libreria, quindi è nel catalogo della Vela. Le sorprese non finiscono qui perché questo ci siamo fatti un regalo noi come diocesi. Adesso c'è il regalo per lei. è una copia della Madonna del Perugino, della Madonna con il bambino del Perugino che Andrea Ippoliti, il nostro artista, ha fatto e che lei terrà nella sua casa. Adesso poi lui ci spiegherà brevemente come l'ha estrapolata dal quadro ed è una realtà che ci prepara anche al cinquecentesimo anniversario della morte del Perugino. Grazie. 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 Adesso l'artista Andrea Ippoliti ci dice brevemente come l'ha estrapolata da tutto il quadro perché ci sono anche tutti i santi intorno. Caro Vescovo Giuseppe, quest'opera raffigura, come lei certamente saprà, la parte centrale, il cuore della grande pala d'altare dipinta a fine quattrocento del Perugino ed è conservata qui presso la nostra pinacoteca. Questa scena richiama inevitabilmente la nostra attenzione e per chi lo vuole la nostra contemplazione. Dipingerla, farla emergere dalla tavola fino a dare gli ultimi tocchi di luce è stato anche un cammino per me interiore in compagnia del maestro Perugino verso il mistero della straordinaria maternità di Maria che con il suo sì ha dato avvio al compimento di quanto annunciato nell'Antico Testamento. Vorrei porre a tutti noi quattro aspetti a nostra attenzione, tra i tanti che è possibile. La prima, la posa di questo bimbo, desideroso di stare in piedi, ma ancora bisognoso di reggersi, aggrappandosi alla mamma. Le mani della mamma, che sfiorano suo figlio, pronti a soccorrerlo, ma anche a lasciarlo andare. I loro sguardi, diretti verso punti quasi opposti, descrivendo un angolo aperto in una sorta di grande abbraccio verso tutti noi. Ultimo, i colori potenti del rosso e del blu, che sono tradizionalmente attribuiti ai vestiti della Madonna. Il rosso, sacrificio e umanità. Il blu, spiritualità e divinità. Come ha accennato Donaldo, quest'opera vuole anticipare di alcuni mesi il cinquecentenario della morte del maestro Pietro D'Annucci, detto il Perugino, che morì nel febbraio del 1523. E' il primo di vari eventi che la nostra Pinacoteca metterà in campo per ricordare questo grande maestro. Ricordo a tutti che dopo la celebrazione siamo tutti invitati nel cortile interno della Curia per fare gli auguri al Vescovo Giuseppe e per trovarci insieme in un momento di fraternità. Veramente tutti siamo invitati. Eccellenza ci benedica. Che bello, mi commuove. Grazie Donaldo, complimenti anche Don Andrea. Veramente bello. Grazie per questa sorpresa. E se tutto scenda la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Glorificate il Signore. Glorificate il Signore. Grazie. 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 Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.